Pronti alla partenza, partiti! Questa è una vita più grande, come si è giudicato! Pronti alla partenza, attenzione! una ruota una ruota Manciaga ha superato Bomberos vediamoli però ancora molto facile si toccano si sono toccati passa passa ma seconda colazione per l'italiano per i copini la terza per il e allora si va vediamo a termine questa resa attenzione attenzione e poi viene colpito attenzione 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 Oh, in sotto! No! E ancora da Samantha Brederland Eh vabbè ma è in mezzo Eh, oh, oh, oh! Sì, non so in franca All'inseguimento Non è che vuole fare un marketing, ma devi All'arrivare ferma E non riesce a voler In sedi oggi Bevi i super maghi E' soprattutto alla mella è già uscito è già uscito no non 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 non